L'altro ieri abbiamo suonato, è una delle poche volte che mi sono svegliato senza il mal di testa cronico, ieri mattina, infatti success. Ma poi quando andiamo in giro a suonare siamo un po' più, cioè, barbari. Noi all'inizio dell'anno abbiamo fatto un video in cui dicevamo, secondo noi, gli artisti che avrebbero spaccato nel 2019 e tra questa lista c'eri anche tu, ti avevamo taggato un po' ovunque. Profezia. Esatto, avevi visto il video. Sì, mi ricordo. E in questo video le dicevamo che praticamente le tue canzoni ispiravano un mood da una stanza con lucine colorate e una persona che ballava spensierata e tu ci hai risposto facendoci vedere le tue lucine, dicendo che ci avevi passato un sacco di ore. Quindi... Questo è psicopatico. Quindi noi ci stavamo domandando che cosa c'è nella testa di Veneros e tutto intorno che si trasforma in musica. C'è un sacco di vissuto personale, un po' tipo storie di viaggio. Però in generale diciamo che quelle situazioni dove mi sento fuori dal mio habitat mi stimolano parecchio, sia infine in situazioni suggestive, o assurde o pazze, cose così. Comunque sì, un sacco di vissuto. C'è tutta una parte di immaginario personale che sto anche un po' io scoprendo negli anni. C'è un sacco di riferimenti ai miei sogni, proprio sogni non tipo cose che vorrei fare, ma proprio sogni, sogni. Boh, diciamo che tutta questa parte anche dell'onirico è una cosa che mi interessa molto. Se io potessi pubblicare i sogni che faccio, probabilmente non farai musica. Tu ti definisci o comunque ti etichetti in qualche modo, tipo in genere musicale, oppure preferisci non farlo tipo essere libero? No, al di là della musica è proprio una cosa che è proprio come mettersi una gabbia attorno senza motivo. Ma magari molte persone credono, cioè, ne vedono il bisogno perché studiano un percorso a livello lavorativo e dicono, ok, se mi riconosco in qualcosa sono più commerciabile, ma a me questa cosa non mi interessa. A maggio è uscito il tuo 9P, lo Vantem. Ce ne puoi parlare un po' come è andato il tuo percorso creativo, che cosa è cambiato? Diciamo che il primo EP che avevo fatto era stato un po', era proprio l'inizio di quando ho cominciato a scrivere in italiano. Il secondo, cioè, avendo quasi finito il materiale che avevo cominciato a mettere da parte, il secondo era molto più, tipo, ok, adesso non ho niente. E' molto più tipo istintivo, è molto più, ok, voglio far uscire in poco tempo qualcosa di nuovo, che sia uno sviluppo di quello che ho fatto finora, però senza che fosse passato troppo tempo, senza che fossero cambiate troppe cose ancora a livello, anche banalmente a livello di vita personale, comunque sì, sono successo delle cose. Però, boh, sì, diciamo che è molto più istintivo. Prima ci pensavo un po' di più, magari. All'inizio volevo addirittura mettermi questo, tipo, avevo deciso che avevo fatto uscire un pezzo al mese, ho detto, ok, tipo, non so, da febbraio faccio uscire un pezzo al mese, così ho anche, tipo, lo stimolo. E sono contento perché, boh, ci sta anche perché a me piace quando più cose vengono ascoltate, cioè, perché magari sono canzoni anche molto diverse. Ascoltate singolarmente sono una cosa, ascoltate nell'insieme esprime un po' di più la complessità del fare, del creare, mettere tutte queste cose tutte insieme ha un impatto comunque diverso. Come c'è stato anche lo switch tra cantare in italiano e in inglese, cioè, in inglese prima e poi in italiano? C'è stato abbastanza a caso, nel senso che io, ovvero, ho sempre fatto musica in inglese, perché ho sempre scusato musica in inglese e tuttora, cioè, prevalentemente, ascoltato in inglese, cioè, non per un motivo, non che sono contro il resto, però, tipo, mi trovo. Ti piace di più? Mi piace di più, cioè, boh, così. Sempre ho fatto musica in inglese, poi a un certo punto ho fatto il primo pezzo Non ti conosco, che è nato davvero mega a caso, senza che neanche stassi pensando adesso faccio una canzone in italiano. Avevo mandato proprio delle note vocali a mio amico, tutto un po' ubriaco, che antichiavo queste robe. Lui le ha prese, le ha messe, le ha fatto tipo un beat, le ha campionate e quindi tutto un tratto avevo tipo una canzone in italiano. E questa roba qua mi ha fatto flashare di brutto perché non mi sarei mai immaginato di farlo. E diciamo che dopo anni che facevo musica, comunque non so, magari 5-6 anni che lavoravo delle cose senza farle uscire, perché è difficile trovare, quando ti capita una cosa che ti rivoluziona così tanto tutta la tua ricerca, è quasi imprescindibile, tipo, seguirla, no? La cosa che mi piace è che, è un po' uno sbatti a tratti, però mi piace il fatto che comunque non ho dei riferimenti, capito? Esatto. Cioè non è che dico, ok, mi piace di brutto quello. Il fatto che comunque ascolto robe che non sono italiane, nel momento in cui faccio la mia roba, credo che è più facile che sia personale, perché non... Infatti io sono... E meno influenze proprio, cioè più roba tua, tua. So che tu hai vissuto anche a Londra, giusto? E hai studiato anche lì? Sì. Come in generale, da quando hai iniziato ad ascoltare o comunque fare musica, fino adesso all'Ovantem, qual è stato un po' il tuo percorso? Prima, tipo al liceo, suonavo la chitarra, chitarra e voce così, proprio cover in camera così, perché mi piacevano le canzoni e volevo ricantarle, così. Anche se sapevo che comunque volevo fare musica, non avevo bene idea del percorso. Poi sono andata in Inghilterra a studiare e lì ho avuto una prima band, alternative rock, quasi un po' prog, cioè a tratti era proprio, cioè completamente diversa, molto più tipo, molto più pesante, anche la musica, molto più intensa. Abbiamo fatto un sacco di concerti, lì ho fatto proprio la gavetta dei live, no? Ho sempre saputo che mi sarebbe interessato fare una roba personale, comunque ho sempre avuto una testa abbastanza, ho sempre pensato, mi sono sempre un po' pensato da solo nelle mie idee e credo che comunque se hai una band o sono delle persone che c'è un'affinità incredibile, oppure è difficile che si riesca a crescere insieme, no? Quindi poi niente, poi ho mollato quel gruppo lì, mi sono messo a fare... In realtà non sapevo che cosa fare, però a quel punto perché dicevo, ok, voglio fare la mia musica, dicevo che cazzo è la mia musica, cioè che cosa ascolto? Perché poi, cioè, quando sono andato in Inghilterra, cioè ovviamente anche tipo i miei ascolti si sono allargati di brutto, no? Ho iniziato ad ascoltare un sacco di musica elettronica, ascoltare molto più jazz, e quindi dicevo che cos'è la mia musica, cioè voglio fare la mia musica, che qual è la mia musica, no? Non avevo più... Una direzione. Riferimenti? All'inizio ho fatto tipo qualche mese dove ho detto, ok, tipo riparto da zero e faccio tipo robe con i suoni, tipo, quindi ho fatto tipo un po' di esperimenti di roba che sembra quasi tipo musica concreta, cioè suoni degli uccelli con io che cammino in giro, con un tipo che suona sassofono sulle Alpi, cioè hai capito, proprio roba mega tipo a istinto, no? Cioè proprio pensavo delle immagini e dicevo ok, questa roba qua. Poi dopo un po' iniziano le paranoie, tipo come stai, cioè stai studiato all'accademia per cinque anni, canti tutta la vita, adesso ti metti a fare le canzoni con i suoni degli uccelli, sei fuori di testa. Per fortuna tipo non ho ascoltato troppo questa parte di me che voleva tipo mettermi questi dubbi, però vabbè alla fine diciamo che stavo cominciando, senza rendermene conto, stavo cominciando a fare la mia musica, no? Poco per volta. Poi ho iniziato a prendere più la forma di canzone, poi ho provato a cantarci sopra di nuovo, all'inizio mi stava sul cazzo la mia voce, quindi mi metteva un sacco di effetti, perché mi dava fastidio, ho iniziato a piacermi, boh. Quindi alla fine sperimentazione, sperimentazione, alla fine ho messo insieme un disco di canzoni in inglese, che poi ho registrato a Roma, che non ho mai fatto uscire, e poi quando ho fatto Non ti conosco in italiano ho detto ok. Ho capito, hai trovato la mia. Sì, sono contento anche che, cioè, da un certo punto di vista, infatti ogni tanto ho pensato avrei potuto farlo uscire quel disco, perché quando l'ho fatto mi piaceva di brutto. Dopo, meno, perché è passato anche troppo tempo, stavo aspettando situazioni per farlo uscire in un certo modo, quindi alla fine, dopo un anno, non avevo più voglia di farlo uscire, non mi rappresentava neanche più. Però da un certo punto di vista sono contento che, non so, adesso ho sentito questa roba con tutti che fanno uscire un botto di musica, tutti i ragazzini di 13 anni che hanno mille canzoni, cioè, boh, sono contento che mi sono preso il mio tempo, perché, perché comunque sono, cioè, quando sono uscito con Non ti conosco, sono uscito con una roba che mi piaceva di brutto. Ti eri convinto al 100%. No, ma poi ero convinto al 100%, questa roba qua è stata, secondo me, fondamentale, perché succedesse tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo. Cioè, io poi lì ho proprio sentito, ok, momento giusto, vai, buttalo fuori a caso, su YouTube, da solo. Perché ero troppo allineato, ho capito, proprio avevo detto, ok, cioè, ci sei. L'hai sentito proprio. Sì, di brutto. Non ti viene mai voglia, tipo, di tornare a cantare in inglese o, boh, far uscire a caso quel disco? Guarda, non mi viene più voglia di cantare in inglese, no, per ora no. Di fare uscire quel disco, non ancora. A volte ci vengo. Però ogni tanto dico, boh, si sta simpatico, cioè, probabilmente voglio aspettare ancora di più, perché diventi proprio, tipo, un po' più divertente la cosa, non so come dire. Sì, tipo una volta che siamo, esatto. Cioè, c'ho sta roba qua che ho fatto, cioè, alcuni pezzi sono delle bombe, cioè, tighe, però, mi dispiace. Aspetterò questi cinque anni. Tu sei comunque un personaggio molto eclettico, no? Quindi, cioè, si vede, è abbastanza palese e questo tuo modo di esprimerti è per esprimere solo la tua personalità o vuoi anche comunicare qualcosa? Cioè, ha anche una funzione. Sta diventando più verso, cioè, nel senso, comunque di base ho sempre avuto un po' la tendenza a volermi esporre, non per una questione di, cioè, di vanità, ma per una questione di, cioè, mi è sempre piaciuto mettermi in gioco, cioè, la roba del palco, la roba di fare i concerti, del spettacolo. Mi è sempre, mi è sempre, mi è sempre sentito molto, cioè, che mi valorizzasse come cosa. E sinceramente, ultimamente, credo che, cioè, sento molto forte il desiderio di, proprio, di sentirmi mega libero, no? E comunque è anche un esercizio psicologico, perché non è che uno dice, ok, mi voglio sentire mega libero e tutto un tratto sei mega libero, no? E alla gente le dà anche fastidio questa cosa. E quando ho capito, cioè, quando ho avuto un paio di esempi del fatto che a certe persone la fastidio questa cosa, mi sono sentito motivato da una cosa che veniva più che da dentro. Cioè, ad un certo punto ho detto, ok, vi sto sul cazzo, adesso vi sto ancora più sul cazzo. Lo faccio ancora di più. Credo che sia fondamentale, secondo me, cioè, se una persona intuisce che esercitando la propria libertà intellettuale può fare qualcosa anche nel suo piccolo, secondo me è giusto che lo faccia, lo faccia in modo sempre più drastico. Cioè, ci tengo, capito? Ci tengo, sto cominciando a tenerci tanto al fatto che forse nelle cose che faccio posso comunicare di più del mio immaginario e posso anche, cioè, anche banalmente, tipo, comunicare il fatto che voglio essere libero di fare quello che voglio. Sì. E di essere come voglio e di non dovermi etichettare mai. Adesso ne sento la responsabilità un po'. Sai, venendo dall'Inghilterra, che è un posto dove, cioè... Ognuno fa come vuole. Ognuno fa come vuole. Non è che è necessariamente meglio, no? Perché ci sono i propri contro. Certo. Però, tipo, c'è una libertà culturale di esprimersi in un certo modo che, se tu vuoi guardare poi, tipo, le scene artistiche, le scene musicali, e anche per quello che sono migliori, capito? Sì, sono più liberi. Perché c'è un'apertura mentale molto più grande che in Italia non c'è ancora, secondo me, no? Cioè, comunque si guarda molto, cioè, se siamo al 2019, c'è internet, non è che la gente non sa cosa c'è nel mondo, però allo stesso tempo tantissime persone, per quanto poi apprezzano quello che fai, a un sito punti che non... Però dai, cioè nel senso, vieni un attimo incontro, e invece è proprio quella roba lì che voglio proprio... È una cosa per te prescini, cioè, che non cambieresti mai. No, zero, anzi, più la gente, cioè, più... Più non va bene, più lo faccio. Più non va bene, più mi sento stimolato a, anche veramente, tipo, a scoprirmi. Ti hanno detto anche come critica, tipo, che volevi fare lo strano per essere strano, cioè, tipo, una cosa per apparire diverso dagli altri. Guarda, questo non tanto, adesso magari mi sento più libero, mi sento anche più stimolato a, boh, non so, acconciarmi in un certo modo, banalmente perché mi diverte, però, tipo, da quando sono ragazzina che magari la gente mi rompe le palle, capito, non è che mi sento bullizzato, però, cioè, comunque, cioè, ho sempre avuto un certo tipo di persone che si sentiva in diritto di giudicarmi, no? Di poter dire che se era giusto o sbagliato che facessi in pratica. E anche questo è un motivo per cui, cioè, credo che sia importante proprio esercitare la propria libertà, perché, cioè, io sono, mi sento fortunato perché comunque mi sento a mio agio con me stesso, no? Cioè, non è che ho dei dubbi sulla mia personalità e mi sento contento di crescere in modo più, tipo, misterioso e inaspettato del mondo, però mi rendo conto che sono anche persone che probabilmente hanno magari una personalità complessa e sfaccettata e magari non, per qualsiasi motivo, non hanno la stessa tranquillità e penso che magari se anche loro ricevessero tipo un insulto o una critica di un certo tipo, potrebbero stare molto male, no? Assolutamente. E questa cosa è una cosa che, cioè, è brutta, no? Invece, cioè, questo tuo modo di presentarti, però, magari anche banalmente le corna o il trucco blu, o trucchi particolari, ti è venuto proprio spontaneo, cioè, è una roba tutta tua o comunque hai delle ispirazioni? No, tutta mia, no? Nel senso che, cioè, che comunque viene da un tipo di, cioè, nel dettaglio la cosa che magari ho fatto in certi concerti, magari, tipo, non è che era studiata che fosse fatta in quel modo, cioè, quindi magari poi mi è venuto qualcosa che fosse mio, però, tipo, sicuramente, ho, diciamo, un immaginario anche visivo molto, cioè, mi piace di brutto ricercare, anche banalmente nella mia musica, per quanto, cioè, non ho soltanto riferimenti, tipo, musicali, diciamo, anche artistici, riferimenti visivi, cose che mi piacciono, in cui mi riconosco di brutto, e quindi c'è un sacco, cioè, in verità c'è un sacco di riferimenti a cose che mi piacciono, cioè, non mi sentirei mai di dire che è una cosa, tipo, mia, di sentirei, è bella, mi piace anche portare le cose che mi piacciono in quello che faccio, la cosa bella è che, cioè, non è mai studiata, cioè, non è mai studiata, quindi non è che dico, ok, voglio fare come, cacchio, ne so, David Bowie, e quindi faccio il trucco di David Bowie, cioè, alla fine, per un motivo o per l'altro, sempre di più, lo traduci in quello che tu vedi, di quella cosa, e poi, tipo, banalmente stanno uscendo delle cose che, c'è anche l'uomo, ho fatto il concerto all'Oibo quest'anno, qualche mese fa, e non so perché, tipo, due settimane prima del concerto ho trovato questa maschera della diavola, ho avuto questo trip, adesso faccio il concerto con la maschera della diavola, a caso, a caso, no? Poi siamo andati lì all'Oibo, ho fatto il soundcheck, tutta una giornata mega intensa, ho il soundcheck, tipo, due interviste, poi, in pratica, sono rimasto bloccato in questo turbine di cose da fare, a un certo punto ero nel backstage, che gli stavano facendo questo trucco della maschera, che comunque ci ha richiesto, tipo, un'ora di tempo, a un certo punto, a parte che è stato mega alienante, perché è stato un'ora su una sedia con tutte queste mani davanti, mi sembra, tipo, vabbè, a un certo punto mi ricordo, avevo la sensazione che era pronto il trucco, e ho detto, ma cosa sto facendo? Mi sono proprio, ho avuto un momento, ho detto, ma perché sto facendo questa roba con la maschera? Cioè, è come se fosse un attimo venuto meno il fatto che lo stavo facendo puramente a caso, no? Poi ho detto, guardatello allo specchio, ho detto, ok, però, tipo, fallo, cacchio te ne frega, fallo, cioè, effettivamente, tipo, per me, a parte che, vabbè, il primo concerto ufficiale, la città in cui sono cresciuto, quindi è stato proprio, anche emotivamente, proprio un roller coaster incredibile, però il fatto è che io sono uscito, la gente si aspettava di vedere un concerto normale, ma visto che la maschera, cioè, comunque ha creato un'atmosfera, sia per me che per le persone, che sarebbe stata diversa se non l'avessi fatto, e non c'era necessariamente una simbologia dietro, però c'era proprio, tipo, un rito di dire, adesso, tipo, lo faccio davanti a tutti e non so perché, e, tipo, non l'ho mai provata, sta roba, e non c'è un motivo per quello sto facendo, però, tipo, quella sensazione di adrenalina, un po', boh, vediamo cosa succede, potrebbe andare benissimo come nonno, però, in verità, poi ha scaturito una serie di cose che, a cui sono mega affezionato, anche a livello di immaginario, di spunti, vabbè, lo Vantem, più o meno, sì, esatto, poi si è basato tutto su questo concetto, esatto, tutto il film che abbiamo fatto. Noi, vabbè, ti abbiamo conosciuto con Dreamliner, quindi parliamo di un anno e qualcosa fa, poi, ovviamente, abbiamo continuato a seguire il tuo percorso e, comunque, come abbiamo detto fino ad adesso, c'è stato uno sviluppo abbastanza evidente, anche semplicemente nel buttarsi e provare cose nuove. Cosa pensi possiamo aspettarci da venersi in futuro? A livello musicale non te lo saprei dire, perché, vabbè, nel senso, poi è abbastanza un flusso, abbastanza omogeneo, non so come dire, mi muovo abbastanza, non è che un giorno mi sveglio e dico basta, adesso faccio sta roba, quindi, a livello musicale, c'è sempre lo sviluppo, cioè, vado avanti, vedo in base a quello che mi ascolto, in base alle cose che succedono, sicuramente, quando farò un disco, sarà sempre più ricco di cose che voglio sperimentare, però, sicuramente, tanto, anche dal punto di vista dello spettacolo, è una cosa che voglio di brutto approfondire, cioè, più che altro è che ogni volta che faccio un concerto in cui aggiungo qualcosa di più, non riesco più a tornare indietro, cioè, ho fatto l'Ibo, con la maschera, e con un posto imballato di gente, ho detto, cacchio no, c'è roba, sono tutti così i concerti, ovviamente poi non può essere così, poi ho fatto il Miami, e mi sono portato sette musicisti, bello che eravamo, ho detto, devono essere tutti così, e quindi, tipo, credo che diventerà una roba fuori portata, più che lei, lo stare in studio, che adesso è una cosa che mi dà dipendenza, però, tipo, proprio l'idea di essere su un palco davanti alla gente, tipo, c'è questo scambio di energia incredibile, è il punto che mi stimola di più. Poi ogni tanto parto e faccio un megatrip e penso a cose incredibili che vorrei fare, però sì, cioè, idealmente, boh, penso tanto in grande. Da di solito facciamo un gioco. Ok. Quanti abbiamo pensato di fare il would you rather? Sai cos'è? Tipo, scegli questo o quest'altro. Preferiresti non giocare mai più a un gioco sul computer, oppure un gioco sulla console. A un computer, cioè, per questa console mi piace. Ci giochi, quindi? Guarda, ogni tanto mi piace di brutto, cioè, ultimamente, tipo, sempre meno, però solo perché sono meno in situazioni di cazzeggio dove stiamo a giocare, però mi piace. Il 60% delle persone comunque è d'accordo con te, sì. Cioè, beh, sì, dai, diciamo che giochi, vabbè. Dipende, dipende da tanta gente. Tanta gente, è vero, è vero, è vero. Preferiresti vedere nel futuro o cambiare il passato? Aiaiaia, questa è bella... Boh, sai cosa? Che cambiare il passato mi sentirei una pressa addosso. Tipo che se cambia la cosa sbagliata? No, che in generale mi sentirei tipo un'angoscia, tipo, adesso faccio un casino. Cioè, preferisco guardare nel futuro e rimanere alienato, arrastrò la mia vita, come un psicopatico che... La maggior parte della gente le vede di guardare nel futuro. Preferiresti fissare il sole per due minuti o bere un litro dell'acqua, tipo, dello scarico? Beh, ovviamente ci sarebbe solo per due minuti. Ok. Probabilmente non è già fatto in questa situazione. Ok, ma già il fatto della gente decide questo, ma chi è che non lo farebbe? Ah, non lo farebbe. Cioè, perché dovresti bere l'acqua dello scarico che dovrebbero andare? Probabilmente che quello già fatto. Preferiresti avere una parte del tuo orecchio, tipo, morso via o perdere i tuoi denti davanti? Beh, a parte dell'orecchio, è culto. Beh, sì. Mi fa pure un po' figlio. È pure una storia da raccontare. È bello. Cioè, è un'esperienza, secondo me. Mi dà una mezza idea. Chissà com'è successo. Preferiresti dire sempre sì o dire sempre no? Cioè, puoi dire o solo sì o solo no? Beh, di solito dico sempre sì, purtroppo. Quindi preferiresti dire sì? Tipo, direi solo sì, cioè, tipo, direi solo sì oppure scappo. Cioè, vorrei tipo... Non diceva per niente. Non lo fai. Perché poi c'è a tre anello. Ma io però, tipo, se ci penso alle situazioni che mi trovo, sono come yes man, cioè, sono i posti fino alla fine, cioè, andiamo in là, sì, dai, andiamo in là, sì, sempre di sì. L'ultima cosa che ti facciamo fare... Non so se l'hai bevuta l'acqua. Un pochino, non l'ho finita, però, secondo me. Se ci vado per fare la tazza, così poi la mettiamo... Dentro? No, pure anche sotto, con le parti bianche che ci sono, perché ovviamente è nera. Wow. Scegli tu il posto dove metterla. Sì. Vuoi prenderti il tuo spot personale? Va bene. Io mi metto di fianco a Lucchino, che è un mio amico. Vai. Mi do un bacino. Bella. Va bene, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.